Non lasciamo che gli uomini spengano i nostri sorrisi. I sorrisi sono quelli delle donne vittime di violenza, donne che subiscono soprusi, ricatti, abusi e che spesso finiscono anche per essere uccise. I numeri dei femminicidi si confermano drammatici, 77 nei primi nove mesi del 2020 in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come resta drammatico è il silenzio che troppo spesso avvolge le violenze, un silenzio su cui è appesato inevitabilmente anche il lockdown. Nel periodo del lockdown le denunce sono diminuite perché a causa della convivenza forzata probabilmente le donne non si sono sentite di fare denuncia. Questo però non vuol dire che non ci siano state delle violenze. Violenze che possono essere segnalate anche tramite l'app YouPoll. Le donne possono inviare dei messaggi o delle immagini che arrivano direttamente alla sala operativa. A tutela delle vittime di violenza anche il codice rosso è entrato in vigore il 9 agosto 2019 che oltre a introdurre quattro nuovi reati velocizza l'avvio del procedimento penale. Denunciate chi non rispetta il vostro essere donna, la vostra personalità. Questo l'appello del ministro dell'interno Lamorgese. Fondamentale anche l'attività di prevenzione come la campagna Questo non è amore della polizia. Che ha lo scopo di fornire informazioni alle donne che si trovano in situazioni di rischio. Tante le iniziative in questa giornata dai sit-in del movimento Non Una Di Meno, ai drappi rossi sui monumenti, fino alle facciate illuminate dei palazzi in Italia e all'estero.